Musica Bentornato Goodlier, bentornata Andiamo ora a parlare di aggiornamenti Credo tu comprenda la necessità di rimanere aggiornati Sulle novità, sui fatti quotidiani Magari anche su pettegolezzi Feedback fatti da utenti ai vari servizi Programmi, alberghi, aziende e qualsiasi altra cosa Credo sia utile Ma comunque non sempre Cosa sono gli aggiornamenti? Li possiamo definire come un cambiamento Una modifica, una variazione Una implementazione di funzioni Un aggiornamento dall'inglese upgrade del mondo informatico È suddivisibile in due grandi famiglie Aggiornamenti hardware e aggiornamenti software Nel primo caso lo possiamo realizzare O sostituendo o aggiungendo uno o più componenti al computer O perché si sono guastati O per una scelta del tutto personale Ciò comporta a volte l'obbligo di ringiovanire anche altri pezzi Oltre quello andato in avaria o comunque sostituito Lo scopo di questo aggiornamento è quello di riparare un eventuale guasto Oppure per scelta, per migliorare le caratteristiche e le prestazioni della macchina Quello più classico è l'aggiornamento software, quindi di programmi Si ottiene potenziando, sostituendo in parte o totalmente il precedente software Un aggiornamento software può avvenire o limitatamente ad alcune funzioni dello stesso O in maniera più grande, più imponente con un cambio della versione del programma Che tra l'altro a volte si configura con uno scenario completamente diverso, stravolto Nella gestione, nell'utilizzo della grafica Come ad esempio è venuto lo scorso 26 ottobre con il lancio del nuovo Windows 8 Gli aggiornamenti software possono riguardare vari parametri, vari settori, varie tipologie del mondo informatico Ad esempio è possibile aggiornare il sistema operativo Oppure i driver delle periferiche O ancora i programmi installati O gli archivi, i database dei vari programmi O infine i plugin o componenti aggiuntivi dei programmi stessi Ma come avviene un aggiornamento? Ogni produttore di programmi adotta comunque strategie di aggiornare i propri prodotti In maniera del tutto autonoma Potresti trovare la funzionalità degli aggiornamenti automatici o la ricerca degli aggiornamenti stessi già attivata In questo caso il programma stesso ad ogni avvio controllerà la presenza di eventuali aggiornamenti Dal server del produttore e te li notificherà a schermo Sarà tua cura decidere se aggiornare immediatamente il programma o rimandare in seguito Se la funzione di ricerca degli aggiornamenti invece non è abilitata Potrai decidere tu autonomamente in maniera manuale Di effettuare tale controllo nei tempi e nei modi che riterai opportuno alle tue necessità Alcuni programmi potrebbero lavorare addirittura in piena autonomia e in maniera silente In estrema ipotesi addirittura in maniera subdola Tipico esempio di programmi malevoli Nel senso che agiranno tuo malgrado Non evidenziando alcuna loro presenza E quindi nessuna azione di aggiornamento Ed effettuando gli stessi tra l'altro senza il tuo consenso A mio modo di vedere naturalmente questo è male Il mio personalissimo modo di agire Infatti si configura con l'impostazione di ricerca degli aggiornamenti disattivata Oppure al massimo con una notifica di presenza degli stessi Questo se da un lato potrebbe crearmi qualche potenziale problema di sicurezza Non aggiornando naturalmente i programmi Immediatamente al rilascio delle nuove versioni Dall'altro però mi garantisce La quasi totalità di un pieno controllo dei programmi installati Come ulteriore vantaggio Evita che vengano private Anche se in piccolissima parte Ad onore del vero Comunque evita che vengano private Risorse al processore In quanto non dovrà dedicare attenzione Per frazioni o secondi Nella ricerca di eventuali aggiornamenti Ad ogni apertura o uso del programma stesso Quindi vediamo nel dettaglio Per il sistema operativo Windows 7 Per accedere alle sezioni Dedicata agli aggiornamenti Dovrai regarti nel pannello di controllo Tramite il pulsante Start Ed individuare nello stesso la sezione O meglio il pulsante Windows Update Cliccaci sopra per entrare nella nuova sezione Da questa nuova finestra potrai determinare e gestire Gli aggiornamenti e anche le impostazioni di ricerca degli stessi Controllando gli aggiornamenti tramite questo pulsante Avrai a schermo la ricerca ed eventualmente la notifica di presenza Di aggiornamenti al sistema operativo Se eventualmente fosse già preconfigurata una ricerca in automatico Avrai notificata nella Sistray la presenza di aggiornamenti Per quel che riguarda i programmi in uso La funzionalità di ricerca degli aggiornamenti è posizionata in varie posizioni Non sempre nella stessa zona Perché dipende dal tipo di programma Ma di norma la potrai trovare nelle impostazioni avanzate del programma Oppure nelle opzioni O nella sezione aiuto o informazioni su Però ripeto non è sempre riscontrabile questa tipologia di ricerca Infatti qui ho rappresentato un collage di immagini, di screenshot relativi a Chrome Come puoi vedere la ricerca degli aggiornamenti si evidenza con il pulsante Informazioni su Google Chrome Mentre nel browse Mozilla Firefox dovrai andare nel pulsante aiuto E cliccare sul pulsante Informazioni su Firefox Infine su Opera, sempre nella sezione aiuto C'è immediatamente visibile il pulsante Ricerca aggiornamenti Individua quindi la sezione in base al programma che utilizzerai E scegli il comportamento che dovrai fare eseguire allo specifico programma Se cercare gli aggiornamenti in maniera del tutto autonoma o manuale Una volta impostati i parametri L'effettivo aggiornamento avverrà con il download Della nuova versione del software via internet Attraverso la connessione ai server del produttore Oppure a fornitori alternativi Ma attenzione in quest'ultimo caso Se il fornitore non è autorizzato dal produttore del software Potresti incappare in qualche malware Per scongiurare tale pericolo Dovrai far eseguire l'aggiornamento direttamente dal programma O nel caso decidessi tu di scaricare la nuova versione Indirizza la tua navigazione Partendo sempre dal sito ufficiale Quindi da fonti ufficiali Sarà lo stesso sito Che eventualmente ti dirotterà su altri siti Da cui poter prelevare gli aggiornamenti ufficiali del programma Se l'aggiornamento scaricato è un file eseguibile Dovrai attivarlo manualmente Eseguendo la sua installazione Come già ho spiegato nella lezione 71 E evidenziato nel video tutorial relativo Che potrai naturalmente visionare sul canale YouTube Oppure scaricare dal mondo iTunes Se hai un dispositivo Apple Durante la procedura otterrai La rimozione della vecchia versione E l'installazione della nuova Oppure direttamente la sovrascrittura Della nuova versione sulla precedente La domanda che nasce spontanea è Se è necessario aggiornare i programmi o no Dipende dalla filosofia di approccio In generale le linee guida Indirizzano ad una risposta positiva Affermativa a questa domanda Per una questione di sicurezza O per implementare le funzioni del programma Però aggiungerei una postilla condizionale Cosa significa? Se il PC è sconnesso dal mondo Direi che puoi proprio farne a meno Infatti se hai una macchina Che utilizzi fine a se stessa Ossia utilizzando programmi Che non necessitano una connessione ad internet E quindi come detto Non necessita di un collegamento Con il mondo esterno Potrai davvero farne a meno Tra l'altro Manterrai una macchina sempre verde Con prestazioni elevate In quanto non graverai il sistema operativo O i programmi stessi Di appesantimenti naturali Dovuti agli aggiornamenti Prendi ad esempio tutti gli aggiornamenti Che la Microsoft Rilascia costantemente Per i suoi sistemi operativi Ogni tanto raggruppa questi aggiornamenti E li chiama Service Pack Delle patch Beh, ti accorgerai con il tempo Che i vari Service Pack Rilasciati nel corso Della vita di un sistema operativo Possono raggiungere I gigabyte di dati C'è da considerare poi L'interazione Che ogni aggiornamento Attua all'interno Del sistema operativo Ancora meglio Nel suo registro Può sembrarti strano O inverosimile Ma a volte Generano dei danni Sì Può accadere Ed è già accaduto In questo caso Gli amministratori I programmatori Devono ricorrere Rapidamente In interventi Di ulteriore aggiornamento Passami il termine Creando una toppa Alle toppe Qualche anno fa Infatti Un'azienda Produttrice di antivirus Con rilascio Dei suoi aggiornamenti Al programma Generò in molti computer Il blocco Del sistema operativo In quanti Essi interagirono In maniera distruttiva Con il registro Del sistema operativo Windows XP Cosa comportavano Questi aggiornamenti L'effetto collaterale È stato spiacevolissimo Per molti utenti In quanto Produceva Nei computer Delle schermate blu E il review Del sistema operativo Ed a volte Ha portato alla necessità Di formattare E reinstallare Il sistema operativo stesso L'azienda poi Si è scusata pubblicamente Regalando Una versione Del proprio antivirus Del proprio antivirus Che normalmente Era a pagamento Ma capisci il danno creato? Fortunatamente Questi sono casi estremi Ma potenzialmente Ogni aggiornamento Di qualsiasi natura Questo sia Potrebbe generare Problemi di stabilità Alla macchina Allora Una contromisura Che ti potrà aiutare In alcuni casi Virtualizzare Il sistema operativo E Tessare per un certo Periodo di tempo Eventuali conflitti Per poi installarlo Realmente Come seguire Tale operazione Te ne parlerò Al momento opportuno Concludo Dicendo Che al termine Della procedura Di aggiornamento Di norma Ti sarà richiesto Di riavviare Il programma O il sistema operativo Per completare L'upgrade Eccoci all'interno Del browser Mozilla Firefox Andiamo ad individuare La sezione Dove ricercare Gli aggiornamenti O visionare La versione Attuale Di Firefox Dal pulsante Aiuto Potrai accedere Alla sezione Informazioni Su Firefox Nella quale Avverrà La ricerca Di aggiornamenti Ed eventualmente La notifica Di presenza Degli stessi Come puoi notare Dopo qualche secondo Avrai in visione La notifica Che Firefox È aggiornato Passiamo Ad un altro Browser Andiamo ad individuare Adesso Opera Anche qui Cliccando Sul pulsante Aiuto Possiamo accedere Alla sezione Di ricerca Degli aggiornamenti Che ci controlleranno La presenza Di eventuali Aggiornamenti Di Opera Anche in questo caso La versione Di Opera In uso È aggiornata Passiamo Ad un altro Browser Veniamo adesso Al browser Chrome Come dicevo La posizione Di impostazioni Per gli aggiornamenti O la ricerca Degli stessi Varie in base Al tipo di programma Sia su un browser Un programma di grafica Un lettore multimediale E così via In questo caso Dovrai cliccare Su questo pulsante E individua La sezione Informazioni Su Google Chrome Avverrà Una ricerca Degli aggiornamenti E qualora Fossero presenti Si avvierà La procedura Di aggiornamento Del browser In maniera Del tutto Automatica Come puoi notare È presente Un aggiornamento E Riavviando Il browser Porterò A termine In questo caso L'upgrade Del browser Clicchiamo pure Su riavvia Vedremo La versione Aggiornata Come puoi ben notare Attualmente La versione Installata È stata Aggiornata Chiudiamo Chrome E andiamo a Visionare Eventuali aggiornamenti Del sistema operativo Come puoi ben notare In basso A destra Nella Sistrade C'è il pulsante Di notifica Della presenza Di aggiornamenti Aggiornamenti Che nel caso In cui non fossero Presenti Con una notifica Potrai sempre Ricercare Dal pannello Di controllo Cliccando su Start Quindi pannello Di controllo E accedendo Al pulsante Windows Update Avremo la Notifica Della presenza Di aggiornamenti Suddivisibili In aggiornamenti Importanti O facoltativi Cliccando su Aggiornamenti Importanti Avrai listata La presenza Degli aggiornamenti Che potrai Scegliere Di selezionare O deselezionare In base Alle tue Necessità O eventualmente Qualora riguardasse Dei programmi Che non utilizzi Su questo computer Potrai Oltre a deselezionarla Anche cliccando Con il destro Selezionare Nasconde Aggiornamento Cosicché Successivamente Non ti verrà Più notificato Per ogni aggiornamento Come puoi vedere Sul lato destro C'è una breve Descrizione Di ciò Che andrà A eseguire Questo Aggiornamento Qualora tu Ne volessi sapere Di più Puoi sempre Regarti Sul sito Della Microsoft Oppure Effettuare Una ricerca In base A questo numero Tramite un motore Di ricerca Dopo aver Selezionato O deselezionato Il pacchetto Aggiornamenti Da effettuare Cliccando Pure su Ok E infine Cliccando Su install Aggiornamenti Avvierai La procedura Di aggiornamento Che potrebbe Durare Da qualche Secondo A qualche Minuto In base Alla corposità Di aggiornamenti Stessi Ricorda Che al termine Delle procedure Di aggiornamento Ti verrà Chiesto Verosimilmente Il riavvio Del computer Alla prossima lezione Con nuove informazioni Didattiche Ora un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E dalla prossima